ciao sono qui a fare questo video per ricordarti la diretta di domani sera guarda domani sera sarà una diretta veramente molto molto particolare molto molto potente faremo un lavoro ma non saprei come definire vi dico solo che questo lavoro ha cambiato veramente la vita a un sacco di persone faremo il lavoro sulle fiamme gemelle ti spiegherò intanto che cosa sono perché non è detto che tu lo sappia non è esattamente l'anima gemella è qualcosa di molto di più è quella metà della mela che hai sempre saputo di avere da qualche parte nel mondo ti svelerò quali sono le caratteristiche delle fiamme gemelle e perché è così importante fare questo lavoro perché ti permette proprio di lasciare andare una delle più grandi ferite anzi direi la più grande ferite che ha l'essere umano la ferita di separazione questa è anche quella che ti porta a sentirti solo abbandonato che ti porta proprio ad avere dei problemi anche a livello relazionale specie con l'altro sesso non solo ma specie con l'altro sesso quindi andremo a lavorare su questa ferita così importante e lo faremo nel gruppo divine connection quindi se non sei ancora nel gruppo se non sei ancora nel gruppo vuoi fare questo lavoro devi solo buttarti dentro il link te lo metto di nuovo te lo metto di nuovo così tu sappi che il le dirette del lunedì d'ora in poi anzi dalla scorsa settimana in poi le facciamo solo sul gruppo quindi se non le trovi più è proprio per questo motivo quindi se vuoi fare questo lavoro buttati dentro divine connection devi rispondere a un questionario rispondi e è semplicemente aspetta che verrà che verrà inserito nel gruppo al più presto possibile così potrai partecipare a tutte le attività molto belle che facciamo all'interno del gruppo ti auguro una bellissima bellissima serata e a presto ciao